Vengono signori, vengono! È iniziato il secondo round del team dei pinguini! Chi diventerà stavolta un ghiacciolo freddo? Io! Io diventerò un ghiacciolo freddo! Guarda come tremo! Guarda come sono fremente! Cavolo, mi sto riscaldando! Non sono più freddo! Gabi, no, no, non devi scaldare! Quindi tu entrare nel team più bello e ghiacciolo del mondo? Sì, non vedo l'ora di fare un provino per essere il ghiacciolo più caldo dell'estate! Oggi andremo a testare, Gabi! Andremo a vedere cosa sa fare perché io ancora non l'ho visto come gioca! A prendere a testate! Mi sai prendere a testate? Vedi che pingu ti prende a testate? Sta facendo un po' di stretching! Vai, pingu! Stretching! Io comunque adesso sto tremando di nuovo! Per seconda cosa voglio vedere se sa fare i trick! E per terza cosa dobbiamo andare a vedere il suo shop! Vediamo le sue skin! Ma stai parlando di me? Sì! Ho paura allora! Perché non ne hai? No! Ma perché tutti dicono che non ne hanno? Vabbè, non ti preoccupare! Poi vedremo! Ragazzi, volete il nostro carissimo Gabi nel team? Mettete mi piace ora e iscrivetevi al canale se lo volete! Vediamo che nome si sarà scelto! PNG Gabi? Eh, sono nel team ormai! Io mi sento già nel team! Ma già sei dentro il team! Io mi sono sventrato con la forza! Ok, Gabibbo, Gabbiano, Gabinetto, tutto! Eh! Vediamo se sei un vero Gabinetto! Oppure sei un Gabibbo! Io sono un Gabibbo! Mettiti i tuoi occhi, quelli là, da lacrimosa! No! No, non ti sta prendendo per il Gabibbo! Cosa mi prende per il Gabibbo? Io adesso voglio fare una partita a box contro di te! Ok, primo livello! Humble Stumble! Devi farmi vedere, Gabi, cosa riesci a fare! Dai, io ti guardo! Sono fortissimo, sono nato pronto, guarda come sono assurdo, guarda come mi ingerdo! No, Gabi, cosa fai? Eh, mi sono gettato un po' troppo, ero troppo emozionato! Cosa stai facendo? Dunque guarda come prendo faccio i 360 sulla cosa, poi mi butti in avanti, poi così, poi giro, pirouetta, mamma mia sono nato, non fare troppo i 360! No, Gabi, che vuoi? Non ho fatto male, sto tornando indietro, cos'è sta roba? Dov'è? Per di qua che devo andare, giusto? Sì, sono caduto pure io, aspetta! Aspetta, ma stiamo andando al contrario! Sto sbagliando tutto, come si gioca? Ok, vieni qua, seguimi, seguimi! Seguimi! Non, con calma, seguimi! Ma dov'è che devo andare sopra il tapino lato? Ok, ci sono, sono vivo, sono vivo! Bravo, bravo! Poi stambola un corno, sto stambolando dappertutto! Ok, vai avanti! Ok, ma perché? Sì, ma questo ha problemi, eh, ha problemi! Ti stai mass... Gabi, ma ti stai massacrando? I massaggi! Sei un gabinetto! Sei un gabinetto! Lo sono in gabinetto! Vai, vai avanti, vai avanti! Mamma mia, ce l'ho quasi fatta, ce l'ho quasi fatta! Bravo! No, no, davanti, cerca di qualificarti almeno, Gabi! Ok, ci provo, ci provo, ci provo! Dai, io ti aspetto, ci sono solo tre posizioni! Ok, bravo! Mamma mia, che sudata! Mamma mia, non sarò più un ghiacciolo! Ti sei tutto sciolto, altro che ghiacciolo! Sto sciogliendo, sono mangiocchiato adesso! Te la sei cavata bene per il primo livello, ma ora qua ci sono i rulli! Oh no, rullo di tamburi! Cerca di non arruzzolarti, magari, eh! Non mi arruzzolo, sono forte! Bravo così, bravo così! Ok, cosa devo fare? Mamma mia, che bravo! Mamma mia, ragazzi! Ma sono qui! No, ma no, ma... Volevo fare uno shortcut, mio nonno mi ha insegnato che se vai sempre dritto, vinci tutto! Bravo! Oh, ma questo formaggio è buonissimo, io sto qua a mangiarmelo! Ma quello non è formaggio, quello è bernice! Che schifo! Il formaggio mi ha colpito, mi ha tirato una sberla! Come può? Io volevo solo mangiarlo! Il formaggio era stagionato, ne eravamo più troppo di tempo! Ok, vai, bravo! Ho paura dei buchi! Bravo! Così, ti voglio così, sei il numero 10 in Italia! No! Dai, adesso è qua! No, questo ho paura, ho paura, ho paura! No, ho paura! Guarda, segui, piango! No, non segui, piango, piango! Ho paura, piango, ho paura, piango! È paura, è paura! Ma vai! Vai, c'è! Sei uno scioppone incredibile, si è preso il piro! Ma non è vero! Si è piro, il piro, il piro! Eh, avevamo detto di far box, l'hai fatta davvero! Io adesso mi metto davanti, io adesso io ti griffo! Ecco, così impari! Adesso faccio io il provino, riuscirà a piungere, non ci riesce! Guarda, l'è diventato spasticissimo! Non è più capace! Non è più capace! No, ragazzi! Mi sta facendo il giro! Ma non riesco a giocare se mi fai ridere! Cioè, doveva farmi l'insegnante ed è il primo che caso! Gabby, sei ad un passo per entrare dentro il mio team! Sono il più forte! Adesso, vediamo come te la cave per le trick! Voglio vedere le tue doti di trickaggine! Voglio vedere se mi trichi! Sono un trick master! Niente, sei rintricchito ragazzi, sei rintricchito! Bravo, ritorna normale! Fammi vedere tutti i trick che sai fare! Guarda come è nuovo come lo stumble! Sono già uno stumble vivente! Tu non lo vedi, ma lo vedrai quando ti darò la mia registrazione! Scusami un attimo! Sei davanti a me? Non mi chiedo! Eh, mi getto già in avanti! Ti getti già in avanti! Bravo! Io entrerò nel PNG! Sarò praticamente una cartina trasparente! Perché sono PNG! Ma dove sono le trick, Gabby? Fammi rivedere sti trick! Guarda qua sopra! Bravo! Che trick! Ma mia, che trick master! Riesse a fare questo trick! Ho visto bellissimo! Un trick incredibile! Continuo, vado avanti! Intanto scivola di nuovo! Ancora come tu fossi un pinguino trasparente perché sono PNG! Bravo, fratello! Ma per arrivare! Sei arrivato con una pallottola! Oh, mi spaventi! Mi sono arrivato a terrazzo! Nooo! Nooo del pinguino padrino! Sono Pingu! Eccomi qua! Preparati! Il tempio perduto? Sai perché si chiama perduto? Perché perderai! Perderai tu! Preparati! Che vittoria! Me la sento già in tasca! Uh, anche tu usi il mio passaggio segreto del... del praticamente che non lo so! Sì, del praticamente che non lo sai! Io praticamente lo so! Visto! Vabbè, ma pure io cago! Anche tu! Ma tu mi butti giù! Ma io lo ti butto giù! Ma guarda che trick! Che batto! Che trick strani! Che trick strani! Aiuto! Mi sono fatto mettere delle cose nel cappe! Treni cappe! Dove sei finito? Dove è il mega trick master? No! Aiuto! È caduto! Senti come si vanta! Chi si loda si sbroda! Diceva mia nonna! Guarda chi si loda si sbroda! Guarda che si sbroda! Beccati sta palla! Ma sono caduto! Sì, ma ce la farò! Ce la farò! Mi qualificerò! Fammi vedere come ce la farai! Forza! Forza! No! Da sinistra! A destra! A sinistra! A sinistra! Vai avanti! Vai, vai! Ma ce la faccio! Questa te la lascia! La puoi vincere! Madonna! Avevi bisogno di un po' di vittorie! Ti vedevo un po' triste! E l'ho detto dai gliela lascio! E vai! Il numero 10 ragazzi! Gabby è un 10! Lui entrerà nel team! Voi ci entrerete! Oh mamma mia! Oh mamma mia! L'ho mai giocato! Lava! Lava! Lava come lava! Sono pingù calinero! Lava come lava! Ma guarda che lui conosce già la mappa! Io non la conosco sta mappa! Gabby devi fare trick! Gabby! Aiuto! 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 I trick e tracche! Gabby devi fare! I trick e ballache! Ma guardalo! Devi fare trick e tracche! No aspetta! Sono caduto! Ma questa è un trick un po' strano! Questo è un trick è tutto bello! Guarda! Ma no la lava! La lava mi sta uccidendo! Tu vai! Non ci credo! Io vado guarda! Non ci credo! È pericolosa sta storia! È pericolossissima! Sì però sto cadendo! No ormai sono... Ciao! Mi sa che la vince il pinguino! Ormai sei ciao! Aspetta! Ti aspetto! Ti aspetta dove sei? Ma mi sta uccidendo la lava! Ma in continuazione! Ma io alla sta mappa non mi avevate detto che c'era! Non l'ho mai giocata! Eh ma che trick! Aspetta non ho capito nemmeno come ho superato quello! Sì però io continuo a cadere in sta lava di me! Gabby dove sei? Io ti aspetto! Non conosco sta mappa non capisco niente! Vediamo se riesco a fare il trick! Oh sì che riesco a farlo! Qua non si fa! Quindi di qua ci riesco! Invece qua devo fare così! E trick e vai! Guardalo guarda che è troppo avanti! Che trick e trick e trick e trick! È troppo avanti! Ma lui conosceva la mappa! Ti ti ho una testata! Ti vedo tutto! Ti vedo bruciare! Ti vedo la sofferenza di Gabby! La sofferenza che sto provando! È incredibile! Ora anzi ero stancato di guardarmi fuori! Ok Gabby sei molto molto bravo! Ti voglio sicuramente nel mio team! Ma prima mi devi far vedere le tue skin! Intanto un giro gratis lo facciamo e vediamo! Gabby! Dammi la skin! Non è che hai poche skin! Non vuoi farmi uscire... Assolutamente no! Ho preso 10 gem! Ma che schifo! Adesso vediamo vediamo! Le skin eccole! Dove si guardano le skin? Dove si vedo? Personalizza! Queste sono le tue skin! Le sto vedendo! Guarda questa! Questa le disca! Quante saranno? 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Una rara! Una epica! Fammi vedere tutte! Guarda quante! Guarda quante! Guarda quante! Ma no! Non ho capito! Fai le c'ho nel blocco! Eeeh! La banana! C'è pure la banana! Ma tu le c'ho nel blocco! Non le hai! Poco note ma cosa? Ne sono otto! E' un bug! E' un bug! Voglio entrare nei png posso anche se ho 50 skin! Va bene! Certo che puoi! Perché sei stato molto molto bravo! D'accordo? Eh lo so! Cosa ci posso fare? Quando non nasce con questo talento! Va bene Gabby! Allora sei dentro il team! Adesso sei un vero png! Ragazzi il video di oggi lo posto anche un po' è qua! Ringrazio tantissimo Gabibbo! Per aver partecipato! Ringrazio voi! Grazie a tutti da casa! Un bacio! Ciao! E noi ci vediamo ad un prossimo video! Eeeh! Ciao! 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 Ciao!